Para fra santo, la prima lettura tratta dal libro del profeta Esaia, potremmo leggere così, anche se il Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, non temere perché i tuoi occhi vedranno la presenza di Dio. Quante volte noi pensiamo che quella situazione di afflizione, di tribolazione sia o l'assenza di Dio o un Dio che quasi non voglia intervenire, quanto in realtà la parola ancora una volta ci conferma che nella tribolazione, nell'afflizione, nella sofferenza sperimentiamo ancora più la presenza di Dio. E il Vangelo di Matteo ci mostra come in questo processo di opera di Dio l'uomo è pienamente coinvolto, è lui, è Dio che sente compassione, mamanta ciascuno di noi perché la messa è molta ma gli operai sono pochi, siamo chiamati ciascuno di noi a fare la nostra parte, a mostrare il volto di Dio in ogni situazione umana. Ma c'è anche un altro significato straordinario, la messa è molta, c'è molto da raccogliere, c'è tanta grazia, c'è tanta bontà, c'è tanta presenza di Dio che il Signore ci doni di essere pienamente corresponsabili in questa azione di Dio nei solchi del mondo. Buona missio.